E siamo a momento di opinioni a confronto in compagnia di Samuele Venturini, biologo e ricercatore. Buonasera Samuele. Buonasera Barbara e buonasera a tutti. Allora con te questa sera parliamo di gas serra. Dunque innanzitutto gas serra effetto serra. Spieghiamo a chi ci segue da casa di che cosa si tratta. In maniera generica il gas serra sono molecole allo stato gassoso presenti nell'atmosfera planetaria come può essere quella terrestre appunto cioè la nostra. Qual è la loro caratteristica? Fanno passare attraverso di loro la radiazione solare ma trattengono invece quella infrarossa che viene riemessa dalla superficie del corpo celeste o prodotta anche proprio da quest'ultimo. Per cui la loro azione quindi si manifesta con quello che viene definito effetto serra ossia il calore venendo trattenuto permette però di mantenere una temperatura media globale più o meno costante eccezione fatta per le naturali fluttuazioni ma pensa che l'importanza di questo effetto serra è proprio quella di permettere la vita sulla terra limitando moltissimo le escursioni termiche che altrimenti sarebbero proibitive. Ecco Samuele l'anidride carbonica e il metano sono i principali gas serra e stanno aumentando. Come leggi questa situazione? Facciamo prima un piccolo passo indietro spiegando come è fatta l'atmosfera terrestre è composta per il 78% circa d'azoto il 16% circa di ossigeno il restante 1% è quello che ci interessa è composto per la stragrande maggioranza da argon un gas inerte e nobile e poi il gas serra che è citato poc'anzi quindi andando a vedere nello specifico la CO2 ossia anidride carbonica è rappresentata per 400 parti per milione ossia lo 0,04% di questa percentuale il 96% è di origine naturale e solo il 4% di origine antropica ossia i combustibili fossili. Mi spiego meglio sarebbe il 4% dello 0,04% quindi è una percentuale molto irrisoria. Per quanto riguarda il metano siamo a circa due parti per milione ossia lo 0,0002% appunto dell'atmosfera e può essere di origine sia naturale che antropica. Qua conviene fare un distinguo tra queste fonti. Quelle naturali sono prevalentemente, pensa alle termiti ma anche gli oceani, le zone umide oppure il permafrosti, i vulcani e la geotermia. Invece quelle antropiche sono dovute al gas, all'allevamento quindi i bovini per esempio, all'agricoltura, alle risaie e alle discariche e ai rifiuti. Poi abbiamo l'acqua. Il vapore acqua è il più importante gas serra del pianeta. Se ne stima che ce ne sia circa l'1,5% dell'atmosfera e rappresenta il 70% del potere dell'effetto serra. Ricordiamo però che la CO2 è fondamentale per la vita perché permette la fotosintesi ma sia CO2 che metano vengono prodotti e degradati assumendo anche dei meccanismi di retroazione. Ossia vengono regolati in un contesto appunto biosferico e planetario. Allora il gas serra, temperature e clima, ci sono delle connessioni e poi ti chiedo se le attività umane stanno mettendo in pericolo questi equilibri. Sì, tutto è connesso ma bisogna sempre tenere bene a mente il contesto appunto, ossia utilizzare quello che io definisco un approccio olistico o metabioevolutivo. Perché dico questo? Perché bisogna ricordare che il clima è sempre variato ed ha una diciamo notevole variabilità intrinseca. Dipende infatti da tanti fattori geostronomici, ossia il sole e poi abbiamo quelli geografici, cosmici e teleconnettivi, ossia le correnti oceaniche e atmosferiche per esempio. Si è visto che negli studi appunto anche più recenti CO2 e temperatura non sono connessi però su scala globale. Anche qui facciamo un distinguo, quando misuriamo la temperatura dobbiamo fare quella globale come dicevamo all'inizio e non quella regionale. Perché non è statisticamente significativo dato che il campione non è rappresentativo, parliamo di un pianeta in fin dei conti. Ecco che da CO2 un suo aumento, come è successo in passato, non è in relazione con eventi naturali estremi o con aumenti di temperatura. Il clima quindi è vario, abbiamo presenti quindi le ere glaciali e interglaciali e soprattutto non bisogna diciamo confondere le politiche che si scelgono. Perché a tutt'oggi non vi sono prove che l'essere umano influisca sul clima, viceversa influisce purtroppo sull'inquinamento e sui danni che gli eventi meteorologici possono fare. Quindi occorre sempre utilizzare al meglio la conoscenza e utilizzare un adattamento e non le strategie politiche come modelli o consensi che però non sono scientifici appunto ma sono più che altro di marketing. Benissimo, grazie Samuele, sempre interessanti i tuoi interventi. Alla prossima. Grazie a voi.